allora qua stiamo a punta secca questa è la casa del commissario montalbano lui scende se ne va a fare un bagno sul mare questo qui a questa è una una dedica per camilleri che ha scritto i libri grande grande artista grande scrittore questa signora è venuta da lontano vero lei viene da lontano e vabbè lei è una giornalista signora vabbè quindi qua praticamente che cosa c'è da dire non lo so io non mi viene in mente niente è un casino qua c'è scritto qua piazzetta non la volete me la faccio la foto allora voi due eh ragazzi non me la volete la foto la faccio io la faccio bene faccio sto mestiere io ma che posso dire io non so cosa dire qui c'è il piccolo porto c'è il piccolo porto ok ok promu azione allora questa è una statua che hanno fatto ad andrea camilleri maestro senza regole è morto di recente questo signore no mi sembra sì è molto bravo questa è la sua penna ultimamente non poteva più scrivere dettava la sua segretaria credo c'è stato qualche intervista di qualche anno fa che ricordo comunque qui ha impiantato il suo montalbano eccola qua questa è la casa ha fatto una cosa bella molto bella buongiorno 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 buongiorno